ah ah ecco uno che capisce qualcosa del totip dai dammi una dritta asinaccio per giocare al totip non c'è bisogno di esperti basta scrivere 1 2 x facile no ecco bravo ripeti l'esercizio 12 volte la schedina 1 2 no no scrivilo sulla schedina tu che hai le mani totip felici e vincenti